Vogliamo sentire il cuore della nostra fede. Allora, io vorrei paragonare questa domenica di oggi, questa seconda domenica di Natale, alla seconda domenica di Pasqua, domenica della Divina Misericordia. Perché noi siamo molto distratti, ma molto, molto, molto distratti. Noi sacerdoti abbiamo una grande esperienza proprio grazie a voi, perché venite da noi a portare le miserie, le debolezze, i dispiaceri, preoccupazioni, problemi. Quanta gente il giorno del Natale non c'era tra questi banchi. Preoccupata per la festa da fare, per i parenti, poi dopo la sera stanchi, non sono venuti la sera a messa. Pasqua la stessa cosa, gente preoccupata per tante cose, non ce l'ha fatta per fare la messa di Pasqua. Domenica dopo Pasqua noi notiamo che è tutto diverso. La gente si risveglia. È la misericordia di Dio che sta facendo il suo lavoro dentro il cuore delle anime. Il Signore è risorto. Il Signore è la vita, è la speranza. Pas Natale, oggi è seconda domenica di Natale e risentiamo il Vangelo della notte. Il Prologo è difficile, non facile. Il Verbo si è fatto carne. Penso che nessuno si commuove davanti a queste parole. Dicevo in una delle messe, oggi in questo Tempio sarebbe forse meglio appunto dire Gesù ha abbracciato l'uomo, lui ha dato un bacio. Gesù è venuto incontro al nostro mondo. L'Evangelista Giovanni lo dice in queste parole sublime, perché è anche vero che questo Natale ha bisogno di una certa elevatezza. Si tratta di un Dio onnipotente, di un Dio santo che assume la nostra carne. E noi conosciamo questa nostra carne, sottoposta alla sofferenza, alla caducità, alle debolezze. La sua umanità non è una semplice maschera e la sua divinità non è riducibile ad un simbolo. Egli, nel suo Io divino, agisce e vive da vero uomo. In Lui vi è tutta la sublime maestà del Creatore e nello stesso tempo la piccolezza sconfinata della Creatura. Solo chi accoglie con fede questa verità si può dire cristiano. Grande è questo mistero del Natale. Solo in una casa, a Montemario, dove io ho fatto le benedizioni della casa come viceparoco, in una casa, durante Pasqua, c'era il presepe. E il Signore, che ha vissuto da solo, disse per me, il Natale è ogni giorno. Guardate che sono passati tanti, tanti anni e io mi ricordo questo e vi parlo di questo. Perché sono le cose che ti rimangono nel cuore. Rimangono nel cuore. Noi abbiamo, io ho detto all'inizio della Messa, ormai avviato l'anno santo di misericordia. Dobbiamo prendere la consapevolezza di questo Natale, perché Natale è misericordia incarnata. È Dio che abita su questa terra. Tu lo devi dimostrare. Tu lo devi dire ai tuoi figli, a questi bambini. Lo devi dire. Io sono felicissimo in questi giorni, diciamo, mesi no, giorni che si comincia a parlare della misericordia proprio con il linguaggio dei bambini. Non c'era prima. Non si poteva parlare neanche agli adulti. Adesso escono i libri, fumetti per i bambini, per farli capire cosa vuol dire l'anno santo giubilare della misericordia. Perché questi ragazzi lo devono sapere, che sono nati, oppure vivono, nell'anno santo della misericordia giubilare, senza aspettare 2025. E questo è bellissimo. Il Signore ha fatto, e veramente è apparsa, una grazia a tutti noi, sacerdoti, non ancora tutti, perché è venuta oggi una signora a piangere davanti a me, che il suo sacerdote ha buttato via tutte le immagini della misericordia, ha impedito a pregare la misericordia ai suoi fedeli. Senza condannare, io ho detto, senza denunciare, pregare. Ho detto a questa fedele, lei preghi. L'anno santo sta solo all'inizio e deve fare il suo lavoro. Deve fare, Gesù deve lavorare. Non è giunta ancora l'ora. Ognuno ha la sua ora di incontrarsi con la misericordia. Anche per questo sacerdote lo affido, in questo momento, della mia omelia e di questa messa, proprio perché il Signore tocchi, quando Lui vuole, come Lui vuole, il suo cuore e poi, quindi, la sua comunità. Noi siamo, dicevo, all'inizio dell'anno della misericordia. Questa volta il Natale non può scomparire, come dicono la maggioranza, le feste sono finite, entriamo in un tempo normale, ordinario. Per me non è così, ma questo è per me. La liturgia può dire, è l'anno ordinario, fra poco, dopo il battesimo di Giovanni Battista, di Gesù. Ma noi viviamo l'anno e giorni straordinari. Ogni giorno c'è un'anima che cambia la vita. Un'anima che compie un'opera di misericordia. Ogni giorno c'è un'anima che, da atea, diventa credente. E' giusto protestare contro la televisione, come avete sentito oggi e ieri da parte del Vaticano. E' certo, è una rivoluzione nei giornali. Il Vaticano si è permesso di dire contro di noi. Ma quando entra in una nostra televisione bestemmia, questo non è la formazione. non è la formazione nei nostri principali reti televisive che trasmettono la voce del Santo Padre. Dove arriveremo un giorno? Nella stessa rete sentire voce del Santo Padre emettere bestemmie non sia mai è un terrorismo che è avvenuto in Italia sulla rete televisiva. Questo è un terrore è una offesa alla dignità della persona del cristiano. Oggi noi non possiamo tacere perché viviamo l'anno santo giorni santi non vogliamo condannare ma chiedere che questa gente si ravveda e mi sembra che va verso questo orientamento quanto io ho letto quel poco che posso tempo dedicare ai giornali ma si deve ravvedere noi dobbiamo difendere Gesù Cristo noi dobbiamo difendere la nostra Chiesa difendere la nostra fede hanno detto perché la gente deve ridere no non possiamo mettere il sorriso in mezzo per mettere diavolo davanti oggi il Papa appunto ci ha parlato del diavolo all'Angelus non è un caso che l'ha fatto eh proprio oggi il diavolo disse si accovaccia sta lì pronto ad attaccare non è un caso proprio oggi Papa l'Angelus del resto è stato dappertutto hanno messo questo titolo stiamoci attenti perché abbiamo paura del terrorismo ma non abbiamo paura del demonio che ci rovina le famiglie i figli che ci rovina noi stessi cari fratelli stiamo per imbocare la strada dell'anno santo primi giorni del 2016 chi di noi sarà capace di accogliere pienamente questa strada della misericordia incarnata chi sarà capace di esportare dal suo cuore non freddezza ma comunione l'evangelista Giovanni oggi ha cantato a noi Dio si è fatto carne noi dobbiamo essere capaci in quest'anno santo toccare la carne di Cristo io la tocco ogni giorno celebrando la messa ogni giorno e prima della santa messa chiedo al Signore Signore aiutami perché io possa sentire tra le mie mani la tua carne questo mi aiuterà per toccare la carne tua nella carne del fratello quello che hanno vissuto i grandi santi tra questi padre Pio di Pietralcina che ha toccato nella celebrazione della sua messa la carne di Cristo non è che avviene facilmente per tutti abbiamo avuto nella storia del cristianesimo anche esempi in cui ci sono state persone sacerdoti che hanno dubitato della presenza di carne di Cristo su questo l'altare e abbiamo punti fissi dei santuari nella nostra cara Italia che ci parlano di questi dubbi e di questi miracoli ci parlano perché hanno dubitato che tra le romani c'è corpo di Cristo e questo è l'anno santo di misericordia e l'eucaristia è testamento della misericordia in questo anno santo dobbiamo toccare questa carne di Cristo perché lui questa carne sua noi la possiamo toccare nella concretezza dei gesti siamo invitati a compiere dei gesti di misericordia e in questi gesti tu puoi toccare la stessa carne che io tocco durante la celebrazione della Santa Messa attraverso questi gesti di misericordia tu puoi toccare questa carne se i tuoi pensieri coincidono con i pensieri di Gesù se i tuoi occhi guardano come Cristo ha guardato i pesci del mare gli uccelli e le persone Gesù carne di Dio vuole abitare il tuo udito perché tu possa dire parole di bene perché tu sappia benedire gli uomini e la vita Gesù vuole abitare le tue mani perché queste mani si aprano si stendano a donare la pace a asciugare le lacrime a vestire i nudi a spezzare ingiustizie questa è la grandezza vera grandezza del Natale un Dio che vuole abitare dentro le nostre case i nostri ambienti dentro il nostro corpo impariamo disse oggi Papa Francesco questa misericordia non ci stanchiamo da questi discorsi sembrano gli stessi ma il gesto di misericordia non è mai lo stesso il sorriso dare da mangiare a una persona che ha la sua storia che ha i suoi problemi è sempre diverso sempre irrepetibile e poi non ci dobbiamo stancare perché Gesù è sempre lo stesso ieri oggi è sempre e abbiamo bisogno proprio perché siamo talmente distratti e potremmo arrivare a quella situazione che già vivono i nostri giovani e bambini che gli regali hai regalato al Natale un gioco e già l'hanno abbandonato perché dopo un giorno dopo poche ore si sono già stancati di questo gioco cercano un altro attenzione oggi non dobbiamo cercare un altro dobbiamo ritornare alla sorgente che è il Signore perciò rivolgiamoci proprio prima di suprema manifestazione di Gesù dopo domani Epifania a questo io direi piccolo Dio piccolo Dio perché sappia impararci a vivere sempre più umani sempre più umani perché questo piccolo Dio sappia impararci a sentire fame e sete di aiutare di aiutare i fratelli fame e sete di carità perché questo piccolo Dio che lo vediamo come un bambino possa aiutarci a perdonare a perdonare donare senza limiti a quanti verranno da noi e sappiamo sappiano gustare nella nostra carne e toccare toccando la nostra carne sappiano toccare la carne di Cristo a perdonare a perdonare a perdonare a perdonare la nostra carne Grazie.